Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e Lega Ambiente insieme per la sostenibilità. Nella cornice del Lago del Miss è stato presentato ufficialmente il progetto che vede le due realtà collaborare per la sensibilizzazione e la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Dal 5 luglio al 4 agosto infatti due gruppi di giovani volontari di Lega Ambiente, uno internazionale e l'altro tutto italiano, saranno impegnati in attività di manutenzione, recupero rifiuti e interventi per la promozione del turismo sostenibile nel parco. Questa è una collaborazione storica fra il Parco Nazionale e Lega Ambiente, l'organizzazione in località agre, i due campi estivi, uno internazionale e uno nazionale, in cui un gruppo di ragazzi arrivano, soggiornano e fanno attività compatibili con il parco, di promozione e poi riportano nei loro territori d'origine quello che è il giusto approccio per un territorio protetto come il nostro parco che è anche un sito unesco. Coinvolgere i giovani significa renderli protagonisti del domani e responsabilizzarli sulle azioni che possono contribuire alla salvaguardia dell'ambiente in cui vivono. La cura, la conoscenza di come si tratta questo territorio, di come ci si approccia, di come lo si frequenta, deve essere un valore condiviso e il campo di volontariato, i campi di volontariato che si susseguiranno, serviranno in qualche modo da un lato a fare iniziative puntuali di piccola manutenzione piuttosto che di pulizia da rifiuti lungo i percorsi e i sentieri del parco. Dall'altra coinvolgere i turisti fruitori con un piccolo questionario di conoscenza del loro ruolo di turisti sostenibili e consapevoli nel parco per aiutare a comprendere quale può essere un futuro sviluppo, visto anche che fra pochi anni ci saranno le Olimpiadi Invernali e quindi milioni di occhi di turisti, di appassionati di sport e di montagna saranno puntati su questi territori e è l'occasione giusta per guidare un certo tipo di sviluppo di questi territori che già ha conseguito grandi risultati ambientali.